crediamo alla potenza di Dio nella nostra vita crediamo alla sua straordinaria cura che ha nei nostri confronti non possiamo forse immaginare l'angoscia che hanno provato il popolo di sorelle trovandosi davanti al passaggio il mar rosso e avere alle spalle il popolo d'egitto che era lì per sterminarlo e non possiamo non provare l'angoscia della vedova che più volte ha cercato di avere giustizia dal giudice disonesto ma alla fine notiamo come l'uno e l'altro urlo di angoscia è stato ascoltato da Dio e che allora comprendiamo che forse non urliamo abbastanza a Dio forse non presentiamo mai abbastanza le nostre esigenze o forse non crediamo mai abbastanza che il Signore può operare o predige la nostra storia concreta e che allora il popolo di sorelle davanti al mar rosso ecco la vedova per noi diventano un paradigma diventano un modello che Dio può tutto se noi ci fidiamo di Lui e lo lasciamo operare a noi il nostro urlo di preghiera buona missio